Buonasera, benvenuto alla sedicesima edizione del Premio Nabokov, edizione in presenza verso il Teatro Comunale di Novoli in provincia di Lecce e edizione a distanza per via del Covid. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Novoli, l'assessore Sabrina Speticato per questa ospitalità, per la rinnovata ospitalità nel confronto del Premio Nabokov. Un Premio Nabokov quest'anno che ha deciso di dare tutta una serie di premi speciali e assegnare la seconda edizione di un premio al quale teniamo molto, anche personalmente perché era un grande amico, di un premio dedicato a Pino Scaccia, lo storico inviato del TG1 della RAI. La prima edizione è stata assegnata a Toni Capozzo, la seconda edizione, quella di quest'anno, è assegnata a Giuliana Sgrena. Giuliana Sgrena, una grande giornalista italiana, che viene sul palco del Nabokov a presentare un saggio molto importante, molto interessante, un saggio molto attuale che si intitola Manifesto per la Verità, Donne, Guerre, Migranti e Altre Notizie Manipolate, edito dal saggiatore. Io sono Andrea Giannasi, editore e giornalista, sono curatore e condirettore del Premio Nabokov insieme a Pier Giorgio Leaci e da 16 anni lavoriamo intorno a questo contenitore, il Premio Nabokov, che ha conquistato e raggiunto ottimi, anzi grandi risultati. I due ospiti, Giuliana Sgrena e Fabrizio Peronaci. Giuliana Sgrena non ha bisogno di presentazioni, grande giornalista del Manifesto, ha collaborazioni internazionali, negli ultimi anni ha lavorato molto sul tema della donna, con il libro Dio delle donne del 2016, Rivoluzioni Violate del 2014, Prezzo del Velo, la guerra dell'Islam contro le donne del 2008, specializzata soprattutto su temi che riguardano il mondo islamico, ma non soltanto, e con questo libro, Manifesto per la Verità, sale sul palco del Nabokov a raccontarci di come le fake news hanno condizionato e condizionano il nostro presente, il nostro quotidiano, basti pensare alle elezioni di Trump e negli Stati Uniti d'America, oppure alla pandemia del Covid, di come le fake news abbiano seminato odio, divisioni, che scontoriamo ancora per molti anni. Ecco, a Giuliana Sgrena assegniamo il premio Pino Scaccia, proprio perché Pino era stato un grande cronista, un grande reporter, e Giuliana Sgrena ha dimostrato in questi anni di meritare appunto questo premio. Fabrizio Peronaci è un giornalista del Corriere della Sera, un giornalista che da anni si occupa di giornalismo investigativo, quindi un giornalismo che scava molto nelle fonti, soprattutto processuali, ed è riuscito negli ultimi anni a ricostruire la storia non solo di Emanuele Orlandi e del suo rapimento nel Vaticano, nel stato del Vaticano, ma anche di scoprire che in realtà i rapimenti furono altri e che, per esempio, nell'ultima telefonata che Emanuele Orlandi fece alla famiglia, citando Avon, in realtà dietro quell'Avon si nascondeva ben altro e quell'altro è l'altro che ha scoperto Peronaci in realtà il grande flusso di denaro tra il Vaticano e la Polonia, le interazioni tra gli Stati Uniti d'America e Papa Wojtyla e di fatto la fine della Guerra Fredda. Abbiamo voluto premiare anche con il premio Nabokov Noir Piera Carlo Magno, autrice di un libro che si intitola Nero Lucano, un libro che ha vinto le Garfagnane in giallo, edito da Solferino nel 2021, ed è un libro che è un noir, ma che in realtà è un libro molto affascinante, perché riesce, fin dall'inizio, a trasformare un luogo passando dall'estate all'inverno e non è facile mutare la percezione di una cittadina come Matera all'interno di una narrazione palpitante fatta di citazioni e verbi, perché i verbi in un libro come questo sono importanti, tanto quanto le pietre delle case di Matera. E allora ricordare, cercare, trovare, morire, costituiscono anelli di una catena che unisce la Divina Commedia, le terzine, montalbano ionico, una bambina dai capelli biondi, anzi no, dai capelli rossi, sotto il firmamento dove tutto accade. Piera Carlo Magno, nero lucano, vince il premio Nabokov Noire 2021. Il premio Nabokov Cool Guys è stato assegnato al libro segreto di Jules Verne, di Luca Crovi e Peppo Biacchessi di Solferino. La genialità vive in questo libro, con Edgar Bambino, che naturalmente stava in una scuola terribile, con insegnanti terribili, ma con un cimitero che era anche aula. La difterite raccontata da Reteo di Cappadocia si porta via Alfred, Gordon, James e Joseph e chi scava le fosse per seferire i soffocati? Il bambino, Edgar. Sull'ultimo colpo di pala, ecco, un libro di pelle. E con questo una certezza, nessun morto da mesi nella scuola, quindi nessuna difterite. E poi una rupe, Edmondo De Amicis, che incontra Verne, un bambino che promette al padre le lacrime, che da quel momento avrebbe viaggiato solo con la fantasia. E molto altro ancora, questo libro degli illustrissimi professori, Luca Grove e Pepo Bianchessi. Questo piccolo capolavoro è un inno alla lettura, alla ricerca, alla gioia, alla scoperta. E non poteva non terminare con l'odio di Gozzano, dedicato appunto a Jules Verne. Premio speciale anche a Bob Dylan, spiegato ad un fan di Madonna e dei Queen, di Gianluca Morozzi. Questa è la storia di un ragazzo bolognese dall'età imprecisata e dal lavoro vago e provvisorio in un negozio di fumetti. Il giorno di Natale viene sconvolto da un'incredibile rivelazione da parte della mamma. E qui iniziano delle domande. Le domande sono cosa c'entrano Zanardi, Colasanti, Petrilli, con il bel film, anzi bel libro, Jokerman di Clinton Eilin, e Guccini che torna a Pavana e la litrata dei vino sull'abio da rinfresco di laurea di Mariella D'Aluca, e Giacob Dylan e Miguel Bosé. E la domanda delle domande sai cosa dice Kerry in Sex and the City 2? Così ancora, la partita può trugare un'Odena, e se esiste veramente in via Paradiso a Bologna un Irish pub. Ecco, sono tante domande all'interno del libro, molto divertente, molto veloce e molto immediato, che ci racconta non solo una Bologna di qualche anno fa, non solo un Bob Dylan di qualche anno fa, ma anche un protagonista che suona diventare forse scrittore e lo fa in maniera molto divertente e molto ironica. Menzione speciale per la saggistica Edita a un libro che merita pienamente questa menzione, Danteide di Piero Trellini, uscito con Bonpiani. Ecco, in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, molto è stato stampato, ma poco si è letto. Questo perché o le derive scolastiche o le derive di sostanza degli autori ci hanno portato sulla scrivania cose spesso imbarazzanti. Sarebbe bastato, credetemi, pubblicare un solo libro, quello di Trellini, dedicato a Dante. Questo è un lungo lavoro di ricerca, all'interno del quale troviamo tutto quello che ruota intorno e perfino dentro Dante stesso. Il mondo tra la fine del 1200 e l'inizio del 300. La storia, gli uomini che la fecero, molti dei quali erano alla fine protagonisti della commedia, ma Danteide non è solo questo, e anche l'analisi della struttura, degli indecasillabi, perché Dantecelle vesa forma, delle parole, sapevate che la parola più utilizzata è occhi, dei verbi, vedere che, se non erro, ci sono 787 forme diverse del verbo vedere. Ecco, questo è un saggio che contiene molti saggi differenti e tante chiavi di lettura differenti. E tutto è concatenato, proprio come le terzine di Dante, che sono composte, quasi disegnate, in quella forma, per evitare che i copisti potessero storpiarle o cancellarle. Ecco, segnatevi questo libro, perché nei 700 anni dalla morte di Dante è sicuramente forse l'unico libro che poteva essere pubblicato, dedicato a Dante, Danteide, di Piero Trellini, menzione speciale per la saggistica edita. Per Nabokov Kids, premio a Nebun, una paura di Nicola Lupi e illustrazioni di Deborah Albertini. È bello incontrare libri per bambini come questo, che poi alla fine mica sono solo per bambini libri come questo, dove c'è una coccinella che è diversa dalle altre coccinelle e Nebù, questo è il nome dell'insetto, è una coccinella diversa da tutte le altre coccinelle, perché la sua livrea non ha i puntini neri ma una macchia che sembra una nuvola. Questa le espone al pericolo della natura perché Nabù sa e deve diventare molto coraggiosa. Ecco, è una storia di vita, di crescita, alla fine si legge a età di lettura per i sei anni, in realtà molto ovviamente è una storia che può essere letta e forse molto ovviamente dovrebbe essere letta anche da adulti. Ecco, Nabokov Kids a Nebù, non ha paura, di Nicola Lupi. E da Pemunabokov 2021, buona continuazione con gli autori sul palco.